Da un po' di tempo stavo valutando di cambiare la tv che utilizzo in salotto per vedere film e serie tv e per giocare nel tempo libero. Per dare nuova vita al mio sistema di intrattenimento multimediale ho scelto questa tv di Cecot che è una VQU 11055 Plus. Nome complicatissimo ma è una OLED da 55 pollici con risoluzione 4K che viene venduta a 500 euro. La sto utilizzando ormai da metà dicembre, l'ho utilizzata tantissimo durante le feste di Natale e l'ho messa davvero a dura prova. Vi racconto oggi tutti i dettagli nella recensione completa, vi racconto la mia esperienza di utilizzo e vi spiego come sta andando questa tv. Ma adesso andiamo in salotto che ve la mostro. Iniziamo a parlare di montaggio e di configurazione. La tv viene spedita all'interno di una scatola naturalmente di grandi dimensioni. Per montarla non ci sono difficoltà particolari ma vista la dimensione e anche il peso è meglio farsi aiutare e non provare a farlo da soli perché diventa un po' difficile da maneggiare. Comunque l'installazione è molto semplice, potete montare i piedini che ci sono in confezione, in quel caso l'ingombro aumenta a 26 cm. Se invece utilizzate la tv con l'attacco VES sul retro tenete conto di uno spessore massimo di 6,9 cm. La fase di montaggio è quindi molto semplice ed è altrettanto semplice la fase di configurazione. La tv a bordo monta Android 11 quindi se avete uno smartphone Android la configurazione avviene praticamente in due minuti. Se invece non avete uno smartphone Android e volete configurarla manualmente serve qualche minuto in più ma stando larghi diciamo che in una decina di minuti si è pronti ad utilizzare la tv in tutte le sue funzionalità. Prima di parlare della tv parliamo un attimo della confezione. All'interno della scatola troviamo tutto quello che serve per il montaggio e troviamo anche due telecomandi. C'è un classico telecomando nero col pulsantino numerico IR quindi un telecomando a infrarossi e poi troviamo anche un telecomando bianco bluetooth che non ha il tastierino numerico. Ci sono alcune funzionalità smart in più infatti con questo telecomando è anche possibile utilizzare l'assistente vocale di Google per comandare la tv. Ma passiamo a parlare della tv. Dice ecco che il design è principalmente frameless questa caratteristica ci permette di avere delle cornici davvero ridotte sui tre lati con quello inferiore leggermente più spesso ma che ci dona una caratteristica un design uno stile pulito minimal e facilmente paragonabile a quello di una tv di fascia decisamente superiore per quanto riguarda il prezzo. Il design quindi mi è piaciuto molto diventa uno splendido complemento d'arredo perché è una tv ben realizzata e ben fatta. Oltretutto non ci sono spunti particolari in termini di design quindi è semplicemente pulita minimal e davvero ben disegnata e ben costruita. Anche le plastiche utilizzate per la realizzazione della scocca sono di buona qualità. Sul retro troviamo una plastica zigrinata molto solida e anche piacevole alla vista anche se potrebbe essere considerato un dettaglio di design poco importante. Però nel complesso sia il design che la qualità costruttiva della tv mi hanno convinto e devo dire che sta molto bene all'interno del mio arredamento e mi è piaciuto un sacco. Parliamo di porte e di tecnologie sul retro della televisione troviamo un sacco di porte che ci permettono di espandere le funzionalità e di utilizzarla al massimo con ogni sistema di intrattenimento che vogliamo andare ad utilizzare. Sul retro infatti troviamo una connessione ottica, una connessione LNB, una porta Ethernet, un jack audio da 3,5, due porte USB purtroppo 2.0, la presa per l'antenna naturalmente e 3 HDMI 2.1. A questi si aggiungono il Wi-Fi, il Bluetooth e il Chromecast integrato e quindi abbiamo davvero un sacco di porte perfette per collegarci ogni tipologia di dispositivo. L'unica mancanza è un USB 3.0 che avrebbe consentito di collegarsi chiavette e hard disk esterni magari un po' più veloci ma non è sicuramente un grave problema in un'epoca in cui l'utilizzo principale viene fatto tramite streaming. Uno dei punti di forza della TV è il supporto ad un sacco di tecnologie, infatti è compatibile questa TV da 55 polli di Cecotec con Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10, Pure Dimming, Pure Move, Pure Outline, OLEM che è una tecnologia legata al mondo del gaming che riduce la latenza per migliorare le prestazioni, c'è poi il MEMC che è un'altra funzione molto utile soprattutto in gaming che aggiunge dei frame intermedi calcolandoli automaticamente e migliora la fluidità del sistema e del video quindi abbiamo una esperienza più fluida anche quando la sorgente che stiamo utilizzando magari non lo è e poi abbiamo il white color gamut e uno schermo a 10 bit con anche protezione della vista iSafe che riduce la luce blu emessa in fase di funzionamento quindi anche le tecnologie sono davvero tante. Il sistema è poi ovviamente basato su Android 11, è un sistema assolutamente completo, funziona molto bene e questo dimostra anche che il processore quad core che è all'interno della TV è preciso, performante e veloce e ci consente di avere delle buone prestazioni con ogni tipologia di applicazione potete quindi utilizzarla per il gaming, per lo streaming, per fare qualsiasi cosa visto che poi su Android TV ci sono tantissime applicazioni scaricabili e le prestazioni saranno sempre perfette e molto interessanti. Android 11 quindi gira molto bene e il sistema operativo della TV è davvero una bomba e che ci consente di avere buone possibilità di personalizzazione. Per quanto riguarda la calibrazione dell'immagine devo dire che il profilo predefinito è davvero molto buono, non sono andato a fare modifiche perché mi ha soddisfatto ma dal pannello delle impostazioni abbiamo la possibilità di andare a modificarne profondamente i settaggi quindi i più esperti potranno sicuramente andare a creare un profilo visivo personalizzato e adatto ai loro gusti poi dalle impostazioni abbiamo sempre la possibilità di personalizzare tantissimi aspetti l'unico aspetto non modificabile è quello legato al comparto audio che di fatto non è modificabile in nessun modo quindi dovete accontentarvi del profilo di equalizzazione scelto da Cecotec che nel complesso mi ha soddisfatto ma mi sarebbe piaciuto onestamente poter fare qualche piccolo aggiustamento non è un grave problema soprattutto per un utente standard che non è un audiofilo che non ha la volontà di andare a modificare queste tipologie di parametri arriviamo finalmente a parlare del pannello dell'esperienza visiva e di gaming e della qualità della tv in sé allora devo dire che anzitutto il pannello è uno led da 55 pollici con risoluzione 4k quindi 3840 x 2160 pixel davvero di buona qualità eccellente se lo rapportiamo al prezzo di vendita per quanto riguarda il pannello devo dire che in questa fascia di prezzo è praticamente impossibile trovare uno led e già questo le dà una marcia in più su moltissimi prodotti concorrenti della stessa fascia di prezzo il pannello ha un'ottima qualità dell'immagine ed offre un'esperienza visiva di alta qualità e caratterizzata da questi colori vivaci contrasti convincenti e poi dei neri molto profondi tipici degli oled che ci garantiscono una ottima esperienza visiva e soprattutto in generale una ottima nitidezza che ci consente di goderci appieno qualsiasi tipologia di filmato, di video, di film, di serie tv e di esperienza di gaming il pannello mi è piaciuto davvero moltissimo ne sono rimasto assolutamente soddisfatto ero un po' perplesso quando Cecotec mi ha proposto di provare questa tv perché ho detto molto probabilmente un led da 55 pollici venduto a 500 euro non sarà di alta qualità ma devo dire che ne sono rimasto molto soddisfatto mi aspettavo di peggio e invece mi ha stupito per la qualità visiva la qualità quindi è tranquillamente paragonabile a quella di modelli di fascia ben più alta e molto più costosi l'esperienza visiva è quindi tranquillamente paragonabile a quella di schermi di fascia più alta e ben più costosi i colori brillanti, i neri profondi la rendono davvero molto bella e piacevole da guardare in ogni caso anche di giorno con la luce addosso la tv si vede benissimo e questo è un punto a favore della qualità del display io l'ho utilizzata ormai per più di un mese per tantissime tipologie di utilizzo differente ovviamente ho voluto provare l'antenna con il digitale terrestre aggiornato che ci permette di vedere tutti i canali e funziona naturalmente bene e poi ovviamente per lo streaming ho scaricato tutte le applicazioni possibili ed immaginabili sulla tv e l'ho voluta mettere a dura prova l'ho quindi utilizzata per guardare film e serie tv su Netflix, su Prime Video, su Disney Plus, ho utilizzato anche Now TV per guardare un po' di sport ed in ogni caso la qualità è davvero eccellente, soddisfacente, la resa video è molto fluida la tv quindi funziona davvero in maniera impeccabile per testarla al meglio ho voluto provarla anche con Fire Stick e con Apple TV e anche qui prestazioni eccellenti ed una resa video pazzesca e dopo ho voluto utilizzarla con la Nintendo Switch e con la PlayStation 4 per un po' di gaming ovviamente questa non è una tv pensata per il gaming, va detto perché è un pannello a 60 Hz che non ha una velocità di refresh pazzesca ma si comporta molto bene perché poi essendo una bella tv che si vede bene con dei colori brillanti anche in gaming riesce a dare il meglio e poi si vanno ad aggiungere le tecnologie di cui parlavamo prima che vanno ad integrare i frame con dei frame intermedi e quindi anche l'esperienza in gaming è assolutamente piacevole e da pagante diciamo quasi le conclusioni ma ci manca da analizzare il comparto audio la tv monta due speaker stereo da 20 watt ed un subwoofer che migliora i bassi la qualità audio è buona, io personalmente ho sempre utilizzato delle soundbar con le mie tv precedenti ma devo dire che la qualità di questa tv, del suo audio mi hanno convinto così tanto da staccare la soundbar ed utilizzarla senza quindi la qualità dell'audio è davvero molto buona quindi l'audio è pulito, profondo, corposo, bello pieno e i bassi sono comunque discreti nonostante sia una tv frameless con un profilo molto sottile l'unica cosa che non mi ha convinto come vi dicevo prima è l'impossibilità di modificare il profilo di equalizzazione ma tutto sommato devo dire che il profilo standard è molto buono siamo arrivati quindi alla fine di questo video parliamo un attimo di prezzo e tiriamo poi qualche conclusione trovare uno led da 55 pollici 4k con questa qualità venduto a soli 500 euro è praticamente impossibile e a questo prezzo secondo me diventa uno dei best buy di questa fascia di mercato perché è una tv bella, ben costruita, con una buona qualità audio, con una buona qualità video e quindi non le manca davvero niente penso che questa tv di Cecotec VQ11055 Plus sia la tv perfetta per chi ha un budget limitato ma non vuole rinunciare a un pannello di buona qualità e di grandi dimensioni ecco tutto ragazzi insomma spero che il video vi sia piaciuto se è così non dimenticate un bel mi piace e l'iscrizione qui sotto al nostro canale vi lascio in descrizione il link per l'acquisto sul sito di Cecotec dove la trovate ad un prezzo inferiore rispetto ad Amazon ma vi lascio anche il link di Amazon se preferite acquistarla lì più comodamente vi lascio in descrizione anche la recensione testuale completa con tutti i dettagli tecnici di questa splendida tv e poi tutti i link ai nostri canali social De Vittorio Tiso per Casa i Tech è tutto grazie e alla prossima